25 giugno 2015, 34esimo anniversario delle apparizioni della Vergine di Meggiugorje. La Gospa ormai di anno in anno rinnova il proprio affetto, la propria materna protezione e vicinanza ai figli suoi della terra con continue apparizioni che parlano di preghiera, pace e conversione. Una data a questa certamente tanto cara, al numeroso popolo devoto, alla Madonna di Meggiugorje, un ponte di preghiera, quello tra quanti riversi nella piccola cittadina della Bosnia-Herzegovina e la Puglia. A Margherita di Savoglia, presso la parrocchia Maria Santissima Adolorata, una serata cadenzata da orazioni, canti e invocazioni di fede alla Mamma del Pane, Maria, un unico popolo sotto un unico pastore. A partire dalle ore 19, su Teleregione la diretta, per portare nelle case di quanti impossibilitati l'immagine della Regina della Pace, invocare i favori celesti, sgranando il Santo Rosario, catena dolce che ci ranno da Dio, incontrare il Dio della vita durante la mensa eucaristica e l'adorazione del Pane del Cielo. Profondi momenti di fede cristiana che parlano di vita eterna, che ricordano la fugacità del pellegrinaggio terreno, tutto teso a dare compimento al progetto salvifico dell'agnello immolato. A guidare il popolo orante, l'immagine della Madonnina con la Croce Blu, quella stessa presenza presso cui la Gospa spesse volte negli anni ha accordato il proprio messaggio di conversione a Meggiugorie. Un'occasione preziosa presso la parrocchia Maria Santissima Adolorata Margherita di Savoia per pregare, pregare, pregare. E a concludere l'appuntamento di fede la benedizione in diretta telefonica di Padre Iozzo. Ed ancora domenica 28 giugno, a partire dalle ore 21, la diretta, sempre sul canale 14, della novena di Maria che scioglie i nodi. Nell'occasione la benedizione del quadro raffigurante il Gesù della Divina Misericordia, realizzato dall'artista polacco Davide Kommacchi, lo stesso che ha dipinto l'immagine della Vergine dei Nodi. Giungere al figlio, quindi tramite la mamma, invocare l'amore del Padre Celeste e i doni dello Spirito Santo grazie alla misericordia del Cristo e levare i cuori, ripetendo l'invocazione rivelata su Orfaustina Kowalska, Gesù confido in te. Due appuntamenti con la fede cristiana su Telerigione, a cui non mancare.